Renata Salupo è il presidente dell'associazione Gruppo Quarto Movimento Liquido, avete organizzato questa mostra anche per ribadire l'importanza dell'arte nella prevenzione. È stata un'idea che è partita anche perché questa nostra mostra coincide con il mese di ottobre, che è il mese della prevenzione del tumore al seno. E quindi da qui è nata l'idea, cioè di riuscire ad abbracciare e sposare più iniziative, appunto come questa della prevenzione. E di prendere in considerazione proprio il connubio che ci può essere tra l'arte e la prevenzione. L'arte è vista come forma di sostegno nelle terapie oncologiche e quindi un modo per riuscire a ritrovarsi e ricostruirsi anche psicologicamente prima ancora che fisicamente. È stata un'iniziativa, secondo me, molto importante, ma basta vedere l'affluenza di pubblico stasera per capire quanto è stata apprezzata ed è sentita da tutti quanti. Dunque i quadri che sono stati qui esposti in questa sala meravigliosa sono non soltanto i miei, che vedete qui alle mie spalle, ma anche delle altre tre artiste che fanno parte del gruppo 4 postmoderno liquido, che sono Patrizia D'Andrea, Loriana Valentini e Lucia Ruggeri. È un gruppo, quello gruppo 4, che si è costituito all'inizio di quest'anno, gennaio 2018, e con la volontà di esportare i nostri linguaggi un po' al di là dei confini regionali.